La meravigliosa cantante italiana Anna Risa va letteralmente a scalare le classifiche radiofoniche, ma mi immagino anche altri tipi di classifiche, con una canzone bellissima e il famoso brano intitolato Disco Paradise, andando a collezionare una marea di riconoscimenti, addirittura più di quelli che sono stati già giudicati da parte dei Madden Skin. I rischi di Platino sono veramente eccezionali, sinceramente ha conquistato il doppio di Platino a scalare le classifiche in ben 6-7 paesi, in totale il cantante continua a stupire tutti grazie alla sua bravura, ma anche grazie a quella dose di piena, totale e completa sensualità che la distingue grazie al fatto che spesso e volentieri indossa calza a rete, reggi di calza, insomma indumenti piuttosto sexy che esaltano la sua magnifica e stupenda bellezza sensualità. Disco Paradise invece è registrato con Ferez al secolo Federico Lucia, ottiene 4 dischi di Platino e un disco d'oro in Polonia, e adesso viene ad essere premiato con Bellissima il singolo con cui analisa proprio su quei anni il quinto disco di Platino, ed è attualmente impegnata in tutti nel vortice. Va bene, nelle tappe passate hanno già accantato con lei Gigi D'Alessio, Gianni Morandi, Alessandra Amoroso, Angelina Mango con Ci pensiamo domani ottiene il quarto Platino, che non è male sicuramente. Va bene, Annalisa Mango, eh scusami, Angelina Mango fresca e diventualizzata, nemmo con la noia. Iscrivetevi al Vivo Metal, io sono Adriano Ronaldo e D'Alessio.